Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati di nuovo qui su Minecraft Il sol ci stanno rendendo in grafica Infatti faccio vedere subito la chat che c'è ancora il trofeo, quello dell'altra volta Comunque, sclero a parte A parte, mi vedete qui con un po' di roba indiamantata Perché sono andato in miniera, come vi dicevo, nello scorso episodio a farmare un po' di diamantuzzi E mi sono messo via la zappa, il piccone, l'ascia, tutto indiamantato E ora c'è da farmare un po' di legno Lo so, ancora dobbiamo ultimare la casa, quindi cavolo, dovete dire voi adesso Sicuramente lo state dicendo, ma non me lo scrivete perché siete troppo timidi, secondo me, per scrivermelo E sto dicendo, Dave, perché non hai ultimato la casa? Perché la casa almeno tiene un coso completo Perché altrimenti fare sempre la stessa cosa mi annoia E poi, come faccio il video fra una decina di episodi Dove dico, completiamo tutto ciò che abbiamo iniziato E poi neanche completo, neanche quel video in realtà, probabilmente, completerò Però ci sta, ci sta tantissimo Comunque, che cosa volevo dirvi? Nulla, facciamo adesso Adesso farmiamo un po' di legna Ovviamente, a parole mie, lo sto dicendo, eh Perciò vado così lento Sto farmando un po' di legna Sto un po' tutto accelerato, ragazzi Non so per quale motivo Mi sono appena bevuto un bel becchiere di cola Non dico cola, è cola perché altrimenti faccio pubblicità e nessuno mi paga Come sono simpatico Ora, scherzi a parte Non ci resta che continuare a farmare un po' di legna Perché sto farmando questa legna? Voi dite, ma poveri alberi Perché li buttate? Perché stanno sul tragitto per tornare a casa Voglio fare una strada per tornare a casa Perché vi ricordo cosa è successo nell'ultima volta che, appunto Volevo mettere, togliere la baseball Capitemi ragazzi Ho un po' paura Mi fa un po' paura Ma non perché mi faccia paura di giocare a Minecraft Perché ci gioco da una vita ormai Quindi I mostri li conosco tutti E così non posso giocare Perché quel creeper che l'altra volta scompariva Ricompariva un metro a distanza da me È dovuto a un fattore chiamato lag Lag che veramente è molto brutta ragazzi Non avendo un pc come si deve Ne risento parecchio E allora Visto ciò ho detto Ma devo fare una strada Perché se non faccio una strada come si deve Va a finire che non posso mai mettere in difficoltà neanche facile Anche facendo una strada Il controllo è lo stesso problema Però ci sarà uno spawn definitivamente più basso di mob In quanto la illuminerò anche E poi in realtà stavo pensando un'altra cosa Ma è necessario proprio mettere i mob ostili Alla fine non ci rieman Minecraft tutti insieme Per vedere Ognuno ha le proprie idee Per vedere Il modo nuovo di costruire qualche casa Non solo per uccidere i mostri Poi quando è che ci serve Di uccidere l'ender dragon Il whither E così via Allora lì sì Vabbè li mettiamo in facile Ce li ammazziamo un attimo E così proprio E andiamo Ma Sostanzialmente È necessario Avere Sempre I mob In mezzo alle scatole Magari mentre stai facendo la sua casetta Arriva lì E ti ammazza un creeper E ti fa ricostruire tutto da capo Secondo me È uno spreco di tempo Materiale E anche di pazienza Perché Pazienza sì Perché Ad un certo punto Inizia a sclerare E poi vorresti scassare tutto E non lo fai Perché tu lo sai che è colpa tua Perché se non fosse colpa tua Allora scasseresti tutto E pazienza Però Visto che sai che è colpa tua Perché tu hai messo I mob Allora Ragazzi da oggi Voglio giocare Senza mob Postili Tranne appunto Quando vi ci serve qualcosa Ovviamente Ma io non mi ricordo In quale direzione Stavo scavando Cioè sto rompendo Verso la casa Cioè scavando Sentiamo Do i numeri Attenzione Vedete Ma io come faccio Secondo voi Posso mai mettere i mob Postili Così che non Posso giocare In alcun modo Che non mi ricordo Manco In che direzione scavo Perché Troppa lag Troppo Giro 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 Tondo Io giro Di un centimetro Manco E lui mi gira Di 360 gradi Non si può Capitemi Non si può E tant'è vero Che continuiamo così Basta Basta Non insistete Ok Sì sto farmando Un po' di alberi Questo è quello che faccio Adesso Così in modo Una volta finito Di farmare gli alberi Posso farmi un bel Ve lo scavo Per sentire Mi devo fare anche Una pala indiamantata Vai Dopo spreghiamo Tutti i diamanti Che abbiamo Mi sembra che non Ne ho più Però vabbè Spreghiamoli tutti Comunque Eh dovevo fare Il tavolo degli Ingrantiti Me li ho fatto Più secondo voi Poi immaginate Che è bello Andare nel nether Senza neanche Un mob Senza gente Che ti spara Senza pigmen Che se per sbaglio Di picci Ti ammazzano Senza Non lo so I blades I blades Quando trovi la fortezza I wizard skeleton Ok Tu dicevi nel nether Di andare una volta Se andava solo per quello Ho capito Ma non è quello L'obiettivo adesso Del mio gioco Adesso il mio gioco Consiste nel Costruire il mio mondo Di minecraft Fare un bel mondo Da condividere Insieme a voi Capite cosa dico Cioè È quello il fatto Se voglio Mettermi ad uccidere le mostre Mostri Sentimi Questa bella Opa Con il naso Cambio gioco Metto un resident evil Metto un Ma quella Un the last of us Che adesso Non esce più La parte 2 Perché Siamo in una situazione Di pandemia Chissà Perché Hanno trovato la scusa Per rimandarlo No Allora Questo lo devo togliere Mi sa Sì Sta poco Sul tragitto Anche se non so Dove fare Precisamente la strada Ma non fa niente Facciamo meno spazio Cioè Lasciamo meno spazio Ai mob Per Sponare Eh Vissene Noi E qua è il nostro obiettivo Non fa sponare nessuno Che sotto questi alberi Ci sponerà il mondo Se io mettessi La difficoltà Facile O difficile O normale Ma anche Semplicemente La facile Si spone il mondo Perché Sono passati tanti giochi Giorni di gioco E E quindi C'è tanti mob Ci sono Tanti mob Tanti mob Tutti quanti Qua vicino Visto che giù Sta già illuminando Qua è tutto illuminato Di giorno Qui non muoio Non indovinate Dove si andano a mettere Questi mob Se io adesso Metessi la Difficoltà Qualsiasi Qualsiasi Difficoltà Indovinate Tutti qua sotto Raccogliamo Un po' di legna Comunque Abbiamo farmato Un po' Di legna Che è bello Ho gioco il titolo Clickbait Per questo video Ragazzi Steghiamoli Puntini puntini Quegli alberi Ci sta Ci sta Comunque Io in questo video Questo è quello Che volevo dirvi Che Lasciavo La pace full Per un bel po' Finché non abbiamo Una stabilità Software Diciamo Chiamiamola così Perché non so come dirlo Che ne dite Ditemi che ne pensate Il merito E Mi sa che devo togliere Un po' di alberi in più Perché Altrimenti Queste foglie Non cadranno mai Tipo questo Sto attaccato All'altro albero Dai 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 Che dopà Che dopà Che dopapere Che dopapere Sì E vabbè ragazzi Un po' di pazienza Almeno Ci siamo fatti Una strada Che a prescindere Nei mob No Scherzi a parte Almeno Non ci perdiamo In mezzo agli alberi Considerato che ci sono Anche dei crateri Qui in mezzo Una strada pulita E semi-illuminata Considerato che abbiamo Messo giusto una torcia Di tanto in tanto E Giusto per Abbiamo un bel po' Di legno adesso Per fare un sacco Di cose Però Ovvio Non era questo Il nostro obiettivo Forse anche questo Come potete vedere Ho quasi Ultimato Qui Di piantare Un po' di tutto Avrei bisogno Di terra Terra Che cos'è la terra? Ci serve Tanta terra Sicuramente Qui Ci cadrà un sacco Di roba Cosa faremo Qui? Pulirò ancora un po' Scaverò A livello del mare Diciamo E poi farò qualcosa Non sentire Non so ancora Di che materiale Farlo Ne abbiamo Di tutti i tipi Questo legno In realtà L'ho preso Solo unicamente Per le ceste Forse Si possa iniziare A fare l'inventario Lì Il deposito Chiamiamolo Come vogliamo Però Posso iniziare A farlo E almeno Un inizio Almeno Un inizio Dovendo a fare Un po' di ceste Dai Quante ceste faccio Ragazzi Tante Devo fare Sai che faccio Così Dov'è il legno? No di petulla Di cuorcia scura Bang Facciamo 64 ceste Voglio fare 64 ceste Così si fanno Senza problemi Ok Bang Fatte Mamma mia Che spreco Ma Ora spiegate una cosa C'è stata Qualche sorta Di espansione Che mi possa Permettere Di mettere Le cose qua Volevo fare Sempre Le truff Caste Mi sembra Che Se io Premessi Shift Fate vedere Una cosa In realtà Non c'è neanche Bisogno Dello shift Basta Fare così Quindi Mi state Dicendo Perfetto Basta Nello stesso verso Allora Le ceste Mi sa Bene Bene Forse Seguono il verso Tanto di guadagnato Almeno Non devo mettermi Più con le trap Ceste Stronzate Varie Quindi Se io faccio Così Ah Però Questa Adesso Diventa Una cosa Brutta Che in realtà Non dovrebbe Tanto Essere Perché Posso Rimediare In questo Modo Basta Metto Così Così E poi Il limite Dovrebbe Unire Direttamente Sono Troppo Avanti Quindi Facciamo Così Tanta 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 Non mi scattare Ok Se invece Faccio così Ragazzi Hanno fatto Questa cosa Minecraft Già L'adoro Già La Adoro L'adoro Tantissimo Vediamo Un attimo Se riesco Ad unire Queste Qui Non si sono unite Per quale motivo Devo andare da fuori Lo faccio Se c'è bisogno Di andare da fuori Ci vado da fuori Ok Sono tutte e due Girate di là Quindi Dovrebbero unirsi Dovrebbero unirsi Sì 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 Ok Abbiamo tutte Doppie chest Ragazzi Tutte 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 Poi Qui Ovviamente Tutte C'è stas singole No Però Senza esagerare Dai Quella dobbiamo girare Sì assolutamente Che non si può guardare In quel modo Che bello Minecraft Se c'è una porta Non esageriamo Dai Che c'abbiamo qua dentro Tutta pietra Ma che dobbiamo sistemare Ora l'unica cosa Io mi sono perso Mia de bontà Questa 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 Sì Va bene Va bene Che cosa ci voleva in mezzo La pelle O? Mi sembra la pelle raga Mi sembra la pelle Ne entrambi i casi Siamo nella me Siamo nella me Siamo nella me Perché adesso qua qual era? La terza La terza La terza Sì La terza qui Eccola qua No 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 Non ve la porto più Per le lunghe No Era la terza Anche qua Dov'è? E lo Pico La troveremo ogni volta Non preoccupate Fin quando non sistemiamo le cose Sarà sempre così Ho fatto un po' di cesto Ho fatto un po' di cesto Come si deve Comunque Per questo Vi so di tutto Abbiamo fatto un po' di inventario Ma io le ceste le ho posate Aspettate Mi trovo Mi trovo facendo Mi sembra Altre due Me ne servivano Tre di questi Volevo completare un attimo Ma me ne avevo voluto Un po' Quattate in camera Volevo mettere Ce li ho Io li ho Un po' di lana 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 Ne ho quattro Di cui una già è blu Perfetto Allora Perfetto Ecco se almeno facciamo il detto grande Tutto con calma Ci mettiamo un po' di cesto Dammi sto colorante blu Che mi coloro la mia lana Metto qua Metto qua Metto qua State zitti Non avete visto niente Qua Metti qua Mettiamo le assi di pedulla sotto Anche se non spreco Prendiamo il letto Prendiamo le ceste Almeno ragazzi Ho fatto qualcosa Anche in questo video Altrimenti vi sto facendo Tutti i video Un po' mosci Lo so ragazzi Purtroppo Minecraft è così È un gioco Molto tranquillo Dove appunto Ci vuole un po' Anche questo E qui invece ci mettiamo Tuttato un secondo Allora La mia intenzione è mettere Qua è già sto così Qua una singola E qua una singola Sì ci sta Dai Facciamo un bell'armadio Così Ah Ho sbagliato Perdenatemi Perfetto Perfetto Devo mettere solo Fino a sopra Allà Eppure qua Eppure là Ci sta Ci sta tantissimo Ragazzi Vi ringrazio ancora Per una volta Per la presentazione Per il mi piace Che state lasciando adesso Anche se qualcuno di voi Ha lasciato inizio Video Però vabbè Vi perdono Non vi preoccupate E ciao a tutti